Io stesso che sono uno degli ultimi resistenti, proprio nel senso che faccio resistente alle lusinghe economiche di ormai tutte le case discografiche che mi propongono la famosa reunion della mia band, chissà nel 2013 quando ci sarà il ventennale di Viaggio Senza Vento cosa succederà. Ci resisto perché proprio sto scoprendo quanto in questi anni e ne ho un po' anche capito le ragioni di questa retromania di questi tempi che non c'è assolutamente nel libro di Paolo, anzi per il libro di Paolo ti preparo la mia prossima domanda per aiutarti, è quella della seconda occasione invece, che ho trovato io l'ho vista più in questo modo, come se nel tuo libro ci fosse la possibilità di avere un'altra occasione la famosa seconda occasione che spesso nella vita vorremmo tutti avere e che qualcuno raramente può avere però saltando di nuovo, tornando alla tua domanda, qualche giorno fa ho partecipato a un incontro e poi chiacchierando dopo privatamente con l'ex direttore di MTV o forse ancora direttore, comunque attuale direttore di La Sette, che è Antonio Campodallorto, di MTV, vice direttore di La Sette, raccontava di quanto la parola d'ordine di questi tempi sia la veridicità. Se negli anni 2000 o fine 90 la parola d'ordine era la velocità, quindi comunicare in fretta, velocemente, le nostre nuove generazioni, i nostri figli sono bravissimi ad agire con velocità e l'assenza della profondità, quindi la memoria, a me è venuta in mente quando parlavi della memoria, del non dimenticare, mi è venuta in mente Merlino quando in Excalibur dice la maledizione degli uomini è che essi dimenticano. Io l'ho proprio intesa come prima tu intendevi anche la frase di Nietzsche, cioè la memoria, un popolo senza memoria perde la sua storia ma perde anche il suo futuro. E oggi la parola d'ordine è ricercare ciò che è vero, infatti raccontava parlando di televisione, ma io e Paolo oltre che incontrarci per il nostro lavoro televisivo in Rai, abbiamo anche provato a immaginare, ci sono dei carteggi, ve lo testimoniamo, un programma televisivo insieme che ogni anno abbiamo l'ardire di proporre a Mamma Rai, chissà che prima o poi non cedano le nostre pressioni, e appunto di ricercare ciò che è vero. E diceva, anche MTV continua a proporre, chiamiamoli reality show, show dove la gente è protagonista, perché dice, negli ultimi anni manca qualcosa che è vero, qualcosa che dia il senso alla gente di vero. Nella musica manca il concetto di verità artistica. Sono, se ci fate caso, ormai 15 anni che non nascono più grandi band. Nascono grandi dischi, perché ci sono state delle bellissime uscite discografiche, ma poi già alla prova del secondo album queste band scompaiono. Ci illudiamo ogni anno che arrivino i nuovi U2, che forse sono stati l'ultima grande band che ha riuscito ad avere una vita trentennale o venticinquennale e invece scompaiono. Guardiamo ormai le riviste e vediamo foto di bellissime donne, ma già sospettiamo che non siano loro. Sospettiamo che Photoshop abbia agito. Infatti io avevo proposto la discografia a un bollino dove dire questa foto è originale, è vera. Lo stesso succede nella musica. Nei dischi c'è gente che viene ai miei concerti, ma anche ai concerti di tanti colleghi, e mi perdonino la parola colleghi, in cui dicono sono venuto a sentire se dal vivo davvero cantavi come sul disco. E io mi dico caspita ma è normale. No, perché oggi con i computer, ed è vero, si possono fare dei miracoli. Si può intonare un cantante che non è intonato, si può sistemare ingrossare una voce che è fine o affinare una voce che è grossa. Quindi la percezione della gente ormai che tutto ciò che proponiamo negli ultimi anni non sia vero. E funzionano in TV questi programmi da quelli più banali a quelli magari un po' più intelligenti che ci possono essere. E appunto Antonio Campodallorto raccontava che anche MTV ottiene successo proponendo programmi in cui il ragazzo abbia la sensazione di essere lì. E la parola d'ordine di questi reality show, voi pensate ai più banali che ahimè probabilmente una volta o due siamo stati costretti a guardare tutti. E la parola vincente è dire io sono una persona vera. No, perché esistono persone non vere? Mi chiedo io. La letteratura, e qui quaglio, arrivo al nostro tema, sta sopravvivendo a questo. Il libro sta resistendo a internet, sta resistendo al download illegale. Il libro viene ancora annusato. La musica ha iniziato a perdere questa aura, questa energia che dovrebbe avere un'opera d'arte. Ecco perché secondo me in questo caso si possono trovare tante emozioni vere nei libri più che altrove. in questo momento. Sì, questa cosa che dici tra l'altro, applauso. La utilizzo per riallacciarmi alla narrativa di Paolo che voleva anche giustamente parlare dell'ultimo libro che ha fatto. Perché mi è venuto in mente un racconto. Sì, anche a me. Mentre lui dice esattamente questa cosa, è il primo racconto del romanzo tra l'altro, se non sbaglio, del romanzo, della raccolta. Fa parte, diciamo, della raccolta. Non è proprio quello che apre perché, no, ci tenevo a fare un accenno perché il libro è uscito pochissimo, è uscito a luglio, ma in realtà è l'ultimo libro di racconti. Sono 22 racconti e vivono molto di questo connubio tra personaggi di fantasia e personaggi in carne e ossa che sono spesso gli umani televisivi. Si chiama Il cane parlante di Sebeng perché il filo conduttore è un braccobaldo. Non so se vi ricordate, è un personaggio un po' antico dei cartoni animati che è diventato un malavitoso sboccato che si dà alle rapine nei bar per fare giustizia degli esseri umani televisivi che hanno soppiantato i cartoni animati. E tra questi c'è il protagonista di un racconto che proprio entra nella casa di un famoso reality show imbottito di tritolo e chiede di partecipare, dicendo io non voglio vincere, io chiedo solo di partecipare a eque condizioni. Ed è il personaggio più vero dei concorrenti, perché è talmente reale da essere noiosissimo, banale, ordinario e lo specchio della mediocrità di noi spettatori. Intendo per mediocrità quello che ci rende media spesso, il tragitto casa lavoro, la metropolitana, l'efficienza e l'efficacia di andare a pronto soccorso piuttosto che rivolgersi a un medio. Le rate del mutuo, queste cose qui. Tutto ciò che lo rende protagonista in realtà, questo è un pollice verso deciso del pubblico, cioè è reality più degli altri, che sono personaggi costruiti dagli autori, improbabilissimi, perché è vero che i personaggi dei reality, a me forse sono io che frequento persone poco reali, ma non ne ho mai incontrata una na mia vita di tutti i giorni che si accosti minimamente a questi personaggi molto costruiti. Lui invece è un personaggio reale, ma non gode del gradimento del pubblico se non perché, se non che ha questa cintura imbottita di esplosivo, quindi questo lui Cicchio muove il pubblico a un certo punto del programma a premiarlo, a farlo salire in vetta, però a una condizione, che lo usi quell'esplosivo. Questo è un esempio, siamo su un altro piano. Le primarie dei numeri. Poiché si trattava di numeri, l'ordine degli interventi fu stabilito in modo naturale. Iniziò il 9. Tra tutti i numeri fondamentali ritengo di essere più importante e lo dimostra un semplice calcolo. Io sono frutto dell'accoppiamento di due perfezioni, ma si levò a un brusio matematico. Avete capito bene, continuò il 9. Io nasco dall'accoppiamento di due perfezioni. Tre per tre fa appunto me. Dunque mi candido alla leadership. Ma non diciamo fesseriere, piccolotto. Vogliamo parlare di segni e significati? Se mi metto disteso divento il simbolo dell'infinito che ogni cosa racchiude, compresi voi. Sono l'unico numero che si possa leggere in orizzontale. Arrivò il turno del 7 e non la mandò a dire. Beh, se la mettiamo sul piano dei simboli, allora datevi una ripassata alla storia. Io, io sono considerato un numero magico e spirituale per eccellenza. Quale migliore dote per un leader che è l'essere visionario e profetico? In quanti giorni è avvenuta la creazione? Già. E quanti sono i nani di Biancaneve? Interruppe bruscamente il 6. Taci tu, ribatte il 7. Sei solo una misera sufficienza. Io sono ovunque, idiota. Del resto mi hai appena citato, eh? Hai detto 6, una misera sufficienza. Vedi quanto sono importante? Costui confonde le acque, urlò il 5. Atteniamoci i numeri senza grapparci a stupidi giochi di parole. Se pensiamo all'utilità pratica, a quanto incidiamo concretamente nella vita degli uomini, altri. Beh, allora il capo sono io. Cinque sono le dite della mano. Cinque i sensi. Per me invece è una quattro stagioni, replicò ancora una volta il 6, tra un nuovo boato di larità. Ma come ti permetti, reagì il 4, parla piuttosto delle stagioni vere. Il ciclo vitale, la sinfonia del cambiamento che si ripete, i punti cardinali, l'est e l'ovest, il nord e il sud, la primavera, l'estate. Di, ma che cosa ti sei fumato? Forse è per questo che traballi sempre su quella gamba come una sedia rotta. A parlare era stato il 3. Altezzoso nella sua autosufficienza, sicuro di sé, non aveva avuto bisogno di alzare la voce per imporre attenzione. Il 9 vive di millantato credito, continuò. Per dare senso alla propria imbarazzante esistenza nella retroguardia numerica, deve vantare una presunta parentela con me. 3x3 fa 9. E allora? Io sono un numero perfetto, pagine e pagine mettono a facere tutta la vostra simbologia. Eh no! Intervenne improvvisamente il 2. Un conto è la tradizione che sfocia nella convenzione quando non è il conformismo. Un altro conto è la vita, ma riflettete. Maschio e femmina, giorno e notte. Io armonizzo gli opposti e assicuro la pace. Senza di me sareste condannati alla sprezzante solitudine e alla guerra. Io rappresento l'unico vero accoppiamento possibile. Vogliamo parlare delle ammucchiate? Osservò sarcastico il 6. Ma questa volta nessuno risorise. Nella sala aleggiava ormai lo spirito dell'ultimo intervento previsto. Adesso basta! Io sono il numero uno. E questo tronca ogni discussione, avete capito? Io sono il capo, il numero uno! E se... Ed un tratto la sala fu scossa da un tremito. Un cerchio di fuoco avvolse i presenti in una vampata e li fuse in un abbraccio. Poi fu il silenzio e restarono solo ceneri. Nient'altro che uno zero.